Il venerdì della quindicesima di andata presenta un menù non troppo ricco. C'è solo Pesaro Ascoli, il derby tutto marchigiano, con Di Carlo che insegue ancora la prima vittoria sulla panchina bianconera, mentre Stellone va alla ricerca di conferme dopo essere stato il primo capace di battere la capolista Pescara. Tre gare domani, nella quale riguarda le zone meno nobili, l'Eniago Spal, lo stesso si può dire per Pineto, Perugia. Anche per gli Umbri il neotecnico Zauli è in cerca del primo sorriso sulla panchina dei Grifoni. Due svincoli per l'alta classifica toccano Arezzo Pescara e Ternana Lucchese. Vietato fallire per la Ternana che riceve al Liberati la Lucchese, i neroverdi di Abate non possono perdere altro terreno dalla capolista anche per via della penalizzazione di due punti che pesa nell'economia della classifica. I toscani, ospiti al Liberati, detengono il pessimo record, se così si può chiamare, di non aver mai vinto in casa, condiviso in tutta la Serie C con il Sestri Levante e la Juventus Under-23. Forse la partita più degna di interesse di tutto il turno è Torres e Entella, seconda contro quarta e separate da soli due punti in favore dei Sardi. Anche l'Entella, avversario il 24 prossimo del Campobasso, ha una difesa bunker con soli nove gol al passivo. Il Campobasso annota la sosta forzata, per alcuni un modo per tirare il fiato, per altri invece non è una circostanza positiva perché condanna il Rosso Blu a tenere alta la tensione e di fatto a due trasferte di fila, prima Carpi, poi Chiavari. I Rosso Blu saranno poi costretti ad un tour impegnativo a dicembre, concentrato per lo più al Molinari. In ogni caso i giocatori e lo staff trascorreranno tre giorni da oggi nelle proprie città di residenza. A proposito del rinvio con il Milan futuro, crediamo che dalla prossima stagione sia opportuno trovare una soluzione che garantisca la regolarità del campionato. Appare chiaro che le squadre primavera delle società di Serie A ad ogni raduno delle nazionali abbiano un numero elevato di giocatori convocati nelle rappresentative giovanili. La Lega Pro deve assolutamente porre rimedio a questo rinvio ormai di prassi delle gare in programma, oltre ad evitare un susseguirsi ravvicinato di gare che possiamo definire fastidioso per le società. Il prossimo sarà anche il mese della venuta della proprietà Rosso Blu in Molise. Prima il vicepresidente Cirrincione, poi il presidente Rizzetta. Saranno nel capoluogo per qualche giorno per fare il punto della situazione con dirigenza e staff. Le considerazioni di pensieri sono positivi sull'inizio di stagione e sul prosieguo di un girone di andata che si avvia a vivere gli ultimi turni. 14 giornate passate in maniera rapida ed intensa alla luce anche di due turni giocati di mercoledì. Braia non fa nessun tipo di tabella entro il giro di Boa, ma è chiaro che mantenendo una media simile, cioè di 1.6 a partita, i Rosso Blu avrebbero la possibilità di girare certamente oltre i 30 punti. Il campo basso è diventato oggi un giocattolo che sta funzionando bene nelle mani di Piero Braia e del suo staff nel quale ognuno si sente partecipe ed è in grado di prestare un contributo importante, un giocattolo dunque che sta funzionando. Il mondo della Serie C aderisce all'iniziativa editoriale Io leggo perché nel prossimo turno di campionato Lega Pro, Serie A, Femminile e Serie B scenderanno in campo per aderire a questa lodevole iniziativa dedicata alla promozione della lettura. Si è interrotto ieri il rapporto fra la regina e l'ex tecnico del campo basso, Rosario Pergolizzi. La società calabrese ha augurato all'allenatore di risolvere a più presto i gravi motivi familiari che lo hanno costretto a tornare rapidamente nella sua città di residenza. Pergolizzi lascia la regina al quarto posto con 21 punti in 11 giornate a due punti dalla capolista vibonese.